Luigi De Magistris ancora una volta a Cava de Tirreni per parlare del coraggio di essere liberi. L'incontro è stato promosso dalla sede locale dell'Italia dei Valori guidata da Angela Di Lorenzo che ha voluto fare un nuovo approfondimento sulla situazione politica italiana. Al centro dell'attenzione, la comunicazione, la libertà di stampa, le forme di libertà che nel nostro paese sembrano sparire così come ha riferito anche il giornalista Emiliano Morrone presente al dibattito. C'è un problema di libertà di stampa ma a mio avviso c'è prima di tutto un problema di libertà di pensiero cioè di condizionamento attraverso mezzi di comunicazione di massa che sono nelle mani di un unico soggetto, di un unico gruppo e quindi da questo discende tutto il problema della libertà di informazione, della libertà di stampa. Io credo che però anche noi giornalisti dobbiamo fare un po' di autocritica nel senso che dobbiamo essere capaci di andare oltre i limiti imposti a livello editoriale anche in ambito locale. Luigi De Magistris ancora una volta a Cava di Tirreni per parlare del coraggio di essere liberi. Che cosa vuol dire oggi in Italia? Essere liberi significa contrastare il malaffare, il rapporto tra politica e criminalità organizzata pensare liberamente di quello che uno vuole fare nella propria vita oggi come oggi svolgere il lavoro in modo onesto, in modo dignitoso significa essere coraggiosi la libertà significa anche aver coraggio questo è un fatto un po' triste perché dovrebbe essere normale invece in Italia anche fare il proprio lavoro, anche essere liberi costa sacrificio. C'è un problema di libertà di stampa in Italia? Sì, c'è, tanto è vero che la settimana prossima si dovrà approvare una risoluzione in Europa sullo stato dell'informazione in Italia, del pluralismo dei media, dell'indipendenza è un fatto grave perché dovrebbe essere un punto cardine di ogni paese che fa parte del Trattato dell'Unione come sanciscono le norme dell'Unione del Trattato e l'Unione della Carta fondamentale dei diritti.